Abbiamo avuto la morte di un quindicenne che si è trovato in una sparatoria nella sanità in uno dei quartieri di Napoli. Noi stiamo facendo investimenti enormi sulle giovani generazioni. Da scuola viva agli psicologi in tutti i distretti sanitari della Campania, unica regione che ha approvato una legge sull'uso degli psicologi. Trasporto gratuito per gli studenti, voucher alle famiglie per l'attività sportiva di base fino ai 15 anni. Stanziamo 5 milioni di euro con la conferenza episcopale italiana per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per quelle che sono le nostre competenze rivolte alle giovani generazioni. Stiamo assistendo ad una esplosione di violenza e di micro delinquenza, in modo particolare a Napoli città. Credo che dobbiamo prendere delle misure straordinarie. Ovviamente, in primo luogo, le forze dell'ordine, ma sappiamo che non basta ovviamente la repressione. Io proporrei un piano straordinario per realizzare la videosorveglianza in maniera massiccia su quasi tutto il territorio di Napoli. Almeno sui grandi quartieri, sulle aree della Movida. Abbiamo già fatto un investimento come regione negli anni passati su 5-6 strade del centro storico. Ma data la situazione, io credo che sarebbe utile e opportuno un piano massiccio per avere il controllo di tutte le principali strade e quartieri di Napoli. È un elemento di dissuasione. È chiaro che c'è un problema culturale fondamentalmente, un problema che riguarda le forze dell'ordine. C'è un problema di diffusione fra i giovani, di coltelli, di pugnali. Siamo arrivati alle pistole. Non credo che possiamo contemplare questa situazione. Dobbiamo prendere decisioni. Per quello che ci riguarda saremmo pronti a finanziare un piano per la videosorveglianza di quasi tutta la città di Napoli. Facciamo un investimento straordinario se c'è la disponibilità da parte di tutte le istituzioni a realizzare un progetto del genere.